Buongiorno Lugno Buongiorno prof La devo chiamare prof? Che l'età ne riesci a? Benvenuti nella vostra prima lezione di corsia Ma è gratis? No perché se si paga in una faccia sta strunzata Vi spiego un pochino come funziona Lugno Ma non può parlare normale? Cioè che passa? Allora io vi dirò una parola in italiano E subito dopo in corsivo Ma poi che resti in corsivo? Cioè non è la scrittura Cioè tipo maiuscolo e minuscolo Tipo cane scritto in maiuscolo dobbiamo dire cane Perché è scritto in caratteri grandi Cioè non sto capendo Voi dovrete semplicemente duettare il video E ripetere la parola in corsivo Ah mio maio duetto Non ti preoccupare Mi raccomando perché poi vi metterò il voto E va buo allora più di qua Che giuro da fa' Prima parola è semplicissima E iniziamo bene come sempre le prof Quando iniziano a spiegare tanto è semplicissimo E poi alla fine della spiegazione Non si capisce nunca Poi si è messa pure gli occhiali Ma invece di dieci anni non è tenuto Amio si dice Amio Ma che è amio? In italiano non esiste amio Esiste amo Prof ma era rovinito Guarda tocca a te Amio 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 Pare una gatta in galore Potresti migliorare Innanzitutto ti calmi perché la prima lezione Già mi dici potresti migliorare È normale ma abbiamo iniziato Verifica si dice Verifica Verifica Amio Pare che hai l'unghia C'è manco re Dai dai Già meglio Hai visto? Sono migliorato Ma ho più di pur l'attestato Così quando mi chiedono quante lingue parli due L'italiano e il corsivo E se mi chiedono Che cos'è il corsivo? Amio Ma come non sai cos'è il corsivio? Sono bravo Sono troppo forte Aggiungo Ti aspetto alla prossima lezione Sempre se è gratis prof Ma poi in quale continente si parla sto corsivo? Inna ci capito E perché è tutto un Non basta con lo latino o greco Che sono lingue morte Ma non è vendato lo corsivo Una lingua onda O dovrei dire Sta lingua pare che teniamo un gattino piccolino Quanto è che fa Io Amio La luce Scusa Oh mio Dio Il mondo è un posto oscuro Pieno di ombri Mamma Ho fame Mi prepari qualcosa da mangiare? Ma parla bene sto deficiente